il trono di spada italiano salve a tutti i signori e bentornati sul mio canale per il secondo video presentativo dell'impero delle clessidre vi ho già parlato di questo libro scritto da mario tillieni definito dalla critica il trono di spada italiano come abbiamo già detto abbiamo già letto insieme il prologo che è stato molto interessante e ci ha buttato un po in questo mondo oggi andiamo a affrontare il primo capitolo in questo primo capitolo che andremo ad affrontare conosceremo i personaggi principali quindi i due protagonisti quelli che mario tillieni ha disegnato come i protagonisti di questa storia ora senza stare ad aggiungere tanta carne al fuoco andiamo direttamente ad ascoltare il primo capitolo e poi ci vediamo dopo per le considerazioni buon ascolto capitolo 1 il monte si infiammava di un fuoco rosso e dorato e il colle sfumando si fondeva col cielo in un bacio blu l'orizzonte ormai di purpura sembrava esalare un profumo croco mentre il cielo assisteva a un gioco di nuvole rosa bambino mio vedi com'è bello veniva da dire a dante ma non lo disse tutto ormai poteva fare tranne chiamarlo bambino quel giorno compiva 18 anni e già stavano arrivando i primi invitati nelle intenzioni doveva essere un diciottesimo memorabile achille guarda com'è bello il tramonto alla fine gli disse con un gesto di affetto sistemò meglio la cravatta colorata del figlio e si compiacque nel vederlo così elegante così grande ormai quasi adulto poi sistemò la sua blu di prussia ecco qui il mio regalo per te gli disse tirando fuori dalla sua scrivania un libro già rilegato achillelli per lì non fece caso al titolo perché la sua attenzione fu subito catturata dall'autore suo padre ho cominciato a scrivere questo libro per te il giorno in cui sei nato spiegò dante con il proposito di regalartelo il giorno del tuo diciottesimo compleanno beh ho finito ieri sera achille prese il libro in mano e cominciò a sfogliarlo rimase colpito lesse la dedica e poi chiese emozionato che genere è il tuo preferito rispose dante il figlio alzò gli occhi dal libro guardò il padre e sorrise sai riprese il padre scrivere un libro è la cosa che più ci avvicina a dio è la cosa che ci fa essere più simile a lui nel senso che crei un mondo dei personaggi la loro vita e li fai agire spesso poi ti ritrovi anche nella condizione in cui essi possono sfuggire al tuo controllo capita che seguono delle dinamiche loro e io ho creato questo piccolo universo per te sono sicuro che li piacerà lo troverai interessante tutti prima o poi dovrebbero scrivere un libro se non altro per provare a mettersi nei panni di dio e capire quanto il suo mestiere non sia per niente facile rise intanto al piano di sotto nella casa gli ospiti stavano arrivando era ora di scendere credo che mi piacerà fu la risposta entusiasta di achille mentre con gli occhi scorreva le prime righe lo leggerò tutto d'un fiato e poi a quel punto potremo scrivere il seguito insieme propose a dante piacque molto l'idea di un libro a quattro mani col figlio sarebbe stato un esperimento ancora più interessante adesso dobbiamo scendere lascialo qui sulla scrivania achille porse il libro al padre ma non riuscì a staccarsene come se gli fosse rimasto incollato alla mano dante che lo aveva afferrato per appoggiarlo sulla scrivania ebbe la stessa sensazione e così i due si ritrovarono in maniera quasi comica con le mani attaccate al libro e di conseguenza impossibilitate a distanziarsi l'uno dall'altro il libro d'un tratto mentre i due si guardavano in faccia sbigottiti cominciò a emanare calore scottava fra le mani ma padre e figlio non riuscivano a liberarsi mentre si guardavano intorno con l'istinto di chiedere aiuto ebbero l'impressione che la stanza nella quale si trovavano fosse improvvisamente isolata dal mondo le due finestre che fino a poco prima mostravano un fantastico tramonto diventarono ad un tratto cieche come se di colpo all'esterno fosse piombata la notte più buia a quel punto guardarono verso la porta che metteva lo studio in comunicazione con il resto del piano superiore della casa e videro la chiave dentro la serratura girare su se stessa solo quando udirono il suono minuscolo del chiavistello scattare come un gang inesorabile si resero conto di avere ancora fiato e cominciarono a urlare aiuto ma ebbero una sensazione immediata che le loro grida stessero rimbombando sorde nel vuoto e che nessuno potesse udirli le luci dentro la stanza divennero sempre più intense fino a diventare di un colore accesissimo come un rosso cardinale poi cominciarono a lampeggiare abbassandosi dal rosso fino alla totale oscurità e viceversa a quel punto la stanza cominciò a girare su se stessa e li fece cadere in terra continuavano a non riuscire a staccare le mani dal libro che nel frattempo era diventato incandescente dopo il secondo tentativo non provarono più nemmeno a rialzarsi perché ogni volta la stanza girando su se stessa faceva loro perdere l'equilibrio dante vide puro terrore nella faccia del figlio che sembrava implorare papà perché non mi aiuti tentò confusamente di dirgli qualcosa ma presto vide gli occhi del figlio girarsi come se stesse per finire in uno stato catatonico achille svenne e il padre rimase pietrificato nel petto gli fece spazio la disperazione più nera guardò alle finestre e il buio oltre di esse poi fissò la lampada che si illuminava a intermittenza fino a quando un bagliore più rosso degli altri fece perdere i sensi anche a lui cosa ne pensate di questo primo capitolo a me ricorda una storia che se siete cresciuti negli anni 80 o 90 non potete non ricordare che è la storia infinita questo primo capitolo ha cambiato completamente colore rispetto a quello che era il prologo che parlava di una signora anziana in qualche modo di una baglia che ha vissuto centinaia di anni e accudito re in un certo mondo fantastico e siamo passati direttamente allo studio di uno scrittore che parla con suo figlio gli regala un libro e si ritrovano a entrare dentro al libro in qualche modo si ritrovano a essere teletrasportati in un altro mondo cosa ne pensate io penso che voglio andare un po più in profondità questa storia e capire dove porta questo mondo e come è composto e quali sono le avventure che si troveranno ad affrontare Achille e Dante in questo caso però chiedo sempre l'opinione vostra mi raccomando fatemi capire cosa ne pensate quindi sappiatemi dire come vi prospettate che continuerà la storia se vi sta appassionando se è un qualcosa che può piacervi e mi raccomando scrivetelo nei commenti soprattutto mettete mi piace iscrivetevi al canale per favore seguitemi anche su instagram che tanto è gratis e è anche su tiktok se volete che comunque ancora un po scarno ma piano piano sto caricando dei video di letture dal vivo e arriverò a portare anche il blogging il book blogging quindi vi lascio in descrizione il link per acquistare il libro di mario tilieni per andare a informare o saperne un po di più e restate con me perché martedì prossimo andiamo a leggere un altro capitolo che è il quarto capitolo perché abbiamo deciso con lo scrittore di andare avanti per highlights quindi praticamente per momenti salienti del libro in modo da stimolare la vostra curiosità senza però spoilerare il vero e proprio libro che magari un giorno potremo fare in audiolibro completo quindi signori vi voglio un mondo di bene mi raccomando continuate a seguirmi seguitemi su instagram tiktok a proposito c'è anche un canale telegram se siete se volete restare in contatto con me un po più direttamente e niente ci vediamo martedì prossimo anzi ci vediamo giovedì per i capitoli nuovi del trono di spade vi voglio bene ciao signori grazie dell'ascolto grazie